E mi sono recuperato pure in canto, era uno di quei film di cui non ero riuscito a parlarvi nelle settimane scorse per i miei problemi, per la mia piccola assenza sul canale, ebbene sono riuscito a recuperare anche quello e quindi ve ne parlerò molto velocemente perché comunque è un film che si è approdato su Disney Plus, il 20 e qualcosa, quindi da pochi giorni, però è uscito al cinema già da un bel po', quindi se ne sta già parlando, se ne è già parlato in realtà. Allora, perché ci tenevo fra l'altro a parlare? Perché è il sessantesimo film di targato Walt Disney, il sessantesimo classico Walt Disney, quindi è comunque un film abbastanza importante, fra l'altro è stato nominato anche ai Golden Globe e chissà se lo ritroveremo anche agli Oscar. Ebbene, che cosa ci racconta questo film d'animazione? Ci racconta di questa famiglia che a quanto pare ha ereditato, ha avuto in un regalo, una sorta di talenti, loro chiamano talenti, ma sono in realtà dei poteri, e in questa famiglia c'è una singola persona, un singolo personaggio, una ragazza che in realtà non ha avuto il classico talento, ma è comunque speciale a modo suo e riuscirà a risolvere un po' i problemi che arriveranno all'interno di questa famiglia. Ora, vi dico subito che io ero anche incuriosito da questo film perché gli sceneggiatori Byron Howard e Jeremy Bush sono, in modo particolare, Byron Howard è lo stesso sceneggiatore di Bolt, avete capito bene, quel Bolt lì, di Rapunzel, oddio, non è che mi aveva fatto in panzi di Rapunzel, però è lo stesso sceneggiatore di Zootropolis. Zootropolis è, a mio parere, uno, e non solo, uno dei migliori film d'animazione di sempre, assolutamente un grandissimo film, quindi ero molto incuriosito da questo incanto. Ebbene, innanzitutto ho molto apprezzato il suo stile molto latino, se non sbaglio il film ha comunque un'impronta colombiana, è ambientato in Colombia, non vorrei dire una cazzata, mi sembra che sia così. Quindi ho molto apprezzato il tema latino, che si rispecchia sia nell'estetica del film, ma anche e soprattutto nella colonna sonora. È un film pieno di canzoni, pieno di musica, in pieno stile classico Disney, e questo ha due lati. Un lato è positivo e l'altro è negativo. Il lato positivo è che molto spesso queste canzoni, ne sono tante, vanno a interrompere effettivamente la fluidità della trama, e a volte risultano un po' ingombranti, un po' scomode, soprattutto per un pubblico un po' più adulto, dato che comunque è un film rivolto, sì, è vero, ha un pubblico molto giovane, quindi di ragazzi, di bambini, però magari l'adulto che si ritrova sempre con queste canzoni nel mezzo della trama, e ne sono tante, può dare un po' fastidio. Il lato positivo è che le canzoni sono effettivamente tutte molto carine, tutte molto orecchiabili, hanno questo stile latino che quindi concilia anche l'atmosfera del film e l'ambientazione del film. Per quanto riguarda invece appunto la trama, bene o male è abbastanza prevedibile, questa ragazza che non ha un vero talento, ma risulta speciale, anche se non è speciale, quindi ha come caratteristica il fatto che appunto è comunque una ragazza speciale, nonostante non abbia un talento, e quindi viene considerata il membro della famiglia più speciale di tutti, proprio perché è speciale senza avere un talento. Ed è ovvio che lei vada a risolvere la situazione alla fine, riconciliando tutta la famiglia e così via. È una trama abbastanza semplice, quindi non siamo assolutamente ai livelli di Zootropolis, perché in Zootropolis c'erano comunque delle riflessioni anche più elevate, c'erano delle argomentazioni molto interessanti, nonostante quello fosse anche quello appunto un film d'animazione. In questo caso non stiamo agli stessi livelli, anche perché sì, c'è ovviamente la classica morale Disney, ma è una morale molto anch'essa molto semplice, che appunto non c'è bisogno di avere questi grandi poteri speciali per essere speciale, ma ciò che conta è, come sempre, l'amore per la propria famiglia e il fatto di essere se stessi, motivo per cui ecco invece gli altri membri della famiglia che hanno i vari talenti hanno dei problemi, perché? Perché hanno il peso di avere quei talenti, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ebbene i membri della famiglia, di questa famiglia, hanno appunto, sento, avvertono questo peso e quindi il peso di questi personaggi che avvertono appunto perché loro hanno quei poteri e quindi si sentono in dovere di dover agire in un determinato modo. E quindi c'è anche quel messaggio di fare ciò che ci si sente di fare, non per forza essere incatenati dalle aspettative degli altri, che è un po' il messaggio che viene mandato e trasmesso invece dagli altri componenti della famiglia, cioè da quelli che hanno effettivamente il talento. L'animazione a me è piaciuta, mi ha ricordato molto, in realtà mi ha ricordato molto quella di altri film d'animazione più Pixar che Disney, però mi è piaciuta, non è male, è molto colorata, è un'animazione che brilla di colori e appunto è facendo risaltare l'ambientazione latina, l'ambientazione colombiana. Come ho detto le musiche sono orecchiabili, alcune sono molto carine, altre un po' meno, però più che altro a volte risultano un po' scomode. La trama è prevedibile e la regia, bene o male, fa quello che deve fare e quindi niente, ho ben poco altro da aggiungere, nel senso che è sicuramente un film che io consiglierei ai bambini, quindi consiglio sicuramente alle famiglie di portare a vedere questo film, perché come dicevo prima, è un classico Disney con tante canzoncine che sicuramente piaceranno ai ragazzini, ai bambini, che manda dei messaggi e ha anche una morale semplice ma che è adatta a quel tipo di target. Ovviamente l'adulto non troverà assolutamente i livelli di Zootropolis a cui si poteva pensare, essendo presente appunto lo stesso regista, più che dobbiamo leggere il Bush, che però è anch'esso lo stesso di Zootropolis, quindi comunque ci sono autori che provengono da quel film lì e dato l'alta qualità del film di Zootropolis mi aspettavo comunque qualcosa che si avvicinasse molto a quella qualità e sinceramente non ci ho visto questa grande qualità, è un film caruccio tutto qui, è abbastanza in sintonia con il resto, con altri film Disney di qualità media, quindi è un film a cui io do un 6 e mezzo, ma non di più e non di meno, niente di più e niente di meno. E va bene così, quindi abbiamo recuperato anche questo film, ovviamente io vi parlerò anche di altri film nei prossimi giorni che ho ancora da recuperare, inizieremo fra l'altro la serie che ci porterà ai Golden Globe, i Golden Globe stanno all'inizio di gennaio, se sbaglio il 9 gennaio, giù di lì, quindi vi parlerò quasi di tutti i film, cercherò di parlarvi di più film possibili che sono stati nominati ai Golden Globe, ovviamente oltre ai film della categoria principale, tra cui c'era anche appunto questo Encanto e andremo a recuperare anche gli altri film. Io quindi vi saluto, alla prossima, ciao!